Io credo che senza la costruzione della convergenza non c'è partita, abbiamo visto, non è però questione soltanto di alleanze politico-elettorali, sono importanti, vorrei dire che deve essere scontata la costruzione dell'alleanza, perché se non c'è quella non si comincia neanche a giocare la partita, ma ripeto non basta, è una sorta di appello quello che faccio, bisogna cominciare subito e bisogna girare il paese insieme per rendere credibili le proposte, anche per ricordare e ricordarsi che le cose che si dicono quando si fa l'opposizione bisogna poi farle anche quando ci si trova a governare, perché è su questo che talvolta si è rotta la fiducia tra una parte, anche il centro-sinistra e per esempio il fondo della U. Io penso che le imposizioni abbiano il compito non solo di fare l'opposizione, per esempio di fronte a una delga fiscale che va in una direzione opposta a quella della progressività che aumenta la diseguaglianza, colpisce i lavoratori pensionati e non aiuta i giovani in questo paese, penso che le oposizioni abbiano l'urgenza anche di definire una proposta su cui ricostruire nel paese un'alternativa, vedremo che cosa dirà ciascuno e ciascuno di oggi, io ho delle idee, non pretendo che siano quelle giuste, ma penso che su alcune cose dobbiamo intenderci, di fronte alla diseguaglianza che esplode bisogna cambiare e ma c'è il cammino. Grazie.